Un'area di sgambamento per i cani in pieno centro, i lavori sono cominciati questa mattina e dovrebbero durare tempo permettendo 45 giorni. Secondo l'assessore ai lavori pubblici Giorgio Cisini l'area potrebbe essere pronta anche prima. Si tratta della lingua verde che costeggia Viale Maculani a pochi passi dal parco da Turi. Oggi il cantiere il cui costo si aggira sui 20.000 euro è cominciato con il posizionamento della recensione. L'area verrà illuminata e dotata di panchine, in futuro verrà realizzata anche una fontanella. Faccio parte del comitato che si è prodigato per trovare un'area all'interno del centro storico, per cui è un risultato che speravamo di ottenere. Forse potrebbe esserci anche qualcosa di meglio, ma al momento va bene così. Qualcosa di meglio tipo? Nel senso che l'area è comoda perché sicuramente è a servizio del centro storico come posizione. Ha però, almeno nella parte iniziale, una discreta pendenza. È una lingua un po' stretta, per cui al momento torno a dire va bene, però laddove ci potessero essere in un futuro delle zone di maggiore ampiezza, probabilmente sarebbe una buona cosa riuscire ad ottenerle. Abbiamo in ogni caso aperto un dialogo con il comune. L'assessore Cisini è un po' il promotore di questo tipo di intervento, per cui al momento direi che c'è abbastanza soddisfazione. Grazie. 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 Grazie.